Continuano le indagini per capire come il ventonelle tunisino ucciso a sesso San Giovanni, responsabile della strage di Berlino, possa avere avuto un biglietto in Italia. Infatti dopo la strage era stato filmato alla stazione francese di Lione. Gli investigatori italiani sono stati a lavoro anche durante i giorni di festa per ricostruire nel dettaglio i suoi spostamenti. Da analizzare anche i dati che gli investigatori tedeschi hanno portato a conoscenza degli agenti della Digos Lombarda coordinato dal procuratore aggiunto Nobili. Intanto si sta esaminando la pistola calibro 22 che il tunisino aveva con sé, la sua scheda telefonica non utilizzata e altri elementi che possano creare se il killer avesse avuto appoggi nel milanese. Tra l'altro c'è anche da mettere in evidenza che un cugino del killer era stato arrestato in Tunisia durante un'operazione condotta dalle forze tunisine. Grazie a tutti. Grazie a tutti.